Passiamo invece alle libere utilizzazioni, cioè tornando al nostro schema di là, adesso finalmente facciamo il salto, siamo passati oltre la riga e siamo andati di qua, cioè situazioni in cui il pubblico dominio, scusate, il diritto d'autore esiste ancora, ma siamo in una situazione di libero utilizzo, che può essere o stabilita dalla legge o stabilita dal titolare dei diritti con una licenza open. Vediamo prima la parte sulle licenze open, scusate, prima la parte sulle libere utilizzazioni e poi quella sulle licenze open, anche se adesso vi ho un po', come dire, già anticipato che cosa sono queste licenze open. Le libere utilizzazioni invece sono casi stabiliti dalla legge, cioè è la legge stessa a dire che si può utilizzare liberamente l'opera perché crea un'eccezione al diritto d'autore, infatti prima si chiamavano proprio libere utilizzazioni. Poi nel 2003 sono stati questi articoli della legge, articoli 65 seguenti della legge sul diritto d'autore, sono stati riscritti e riscritti ahimè in un'ottica un po' più restrittiva, cioè già il fatto che adesso si chiamino eccezioni al diritto d'autore ci fa capire che l'approccio del legislatore è abbastanza conservatore, cioè ci ricorda che sono eccezioni, cioè che la regola generale è che tutto ciò che ricade sotto la definizione di opera dell'ingegno di carattere creativo è automaticamente tutelata e quindi io posso utilizzarle solo perché diciamo per grazia ricevuta la legge ci dà una eccezione, ci consente un'eccezione. Allora come dico qua appunto si tratta di casi specifici in cui un'opera è ancora sotto copyright però può essere utilizzata senza chiedere il permesso, cioè non viene meno il diritto ma viene meno l'obbligo di chiedere il permesso, questo è un concetto fondamentale. Si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare, cioè l'ordinamento giuridico fa un bilanciamento e dice ok in questo caso forse è più importante tutelare che ne so, la libertà di insegnamento, la libertà di fare critiche e discussione, la possibilità delle biblioteche di mettere in prestito l'opera, adesso le vediamo, perché è più importante tutelare quello piuttosto che tutelare un diritto, un interesse privato e commerciale come quello tipico del copyright, del diritto d'autore. Cioè tolti la parte sui diritti morali abbiamo visto che il diritto d'autore ha un'anima che è tendenzialmente patrimoniale, cioè serve per garantire una remunerazione agli autori e a tutti loro aventi causa, i produttori, artisti, interpreti, esecutori e via dicendo. In alcuni casi si pensa che questi soggetti debbano un attimo, come dire, abbassare la testa e lasciare il passo a altri interessi più importanti per l'ordinamento giuridico.